Musica Allora, in questo nostro racconto dobbiamo anche pensare a quello, no? Che è il mondo... L'ambito spirituale L'ambito spirituale E allora, chi è questo signore? Allora, racconterà a lui e ci dirà bene come nasce la sua spiritualità e che cosa... Intanto, vorrei sentire che cosa ha respirato appena entrato perché lui respira e assorbe quelle che sono, no? Le energie Prego Grazie Io non parlo troppo bene l'italiano La mia traduttora, Antonella Per favore Avvicinati un po' qua Alguiena? Sì, vieni, vieni Io studio la parapsicologia La parapsicologia si carica Per l'energia Ok? Che tutti Tendiamo Ok? Tutti hanno questa energia E in tante volte C'è questa preoccupazione per l'area materiale Però E la parte spirituale La... Mettiamo un po' di palco Ok? Allora I miei studi sono con l'astrologia Con la data di nascita Il signo soviacale Il nome e il cognome C'ho questa facoltà Di poter vedere un pochino più Ok? Che veramente penso che tutti Questa facoltà La teniamo Ok? Praticamente Fabio Che studia Quelli che sono Alcuni fenomeni Ha questo dono Che dice che non è soltanto lui Ad avere questa opportunità Ma che tutti siamo figli di Dio All'interno abbiamo Un universo Ma non riusciamo A sviluppare Queste doti di intuizione Lui attraverso gli studi Quindi l'astrologia La metafisica La nuova era Alla? La nuova era La nuova era La nuova era Quest'area di qua Quest'area di qua Solidario Oracoli E' riuscito a sviluppare Questa possibilità Di andare un po' oltre Quindi riuscire a percepire Sia le energie Che hanno le persone I messaggi degli angeli E da lì anche la possibilità di dare Qualche messaggio E' un po' come dice lui Un'antenna Che attraverso quello che arriva Voglio dare un aiuto Allora io voglio dare un piccolo esempio Vuole dare un esempio Non so chi persona Indifferentemente del pubblico E vuole partecipare Se c'è qualcuno nel pubblico Se volete partecipare Può darvi delle indicazioni Attraverso la data di nascita Il nome e il cognome Fate una domanda Ah, credo Credo che ce ne sono Mi fa piacere Questo è importante E il suo nome E il suo cognome E il suo segno zodiacale E la data di nascita Allora Il mio nome è Domenico E il mio cognome è Romero Che unendoli Doro Ok La mia data di nascita È il 16 aprile Però Sono stato registrato Il 20 di aprile Quindi tieni conto pure di questo E l'anno Anno 1935 Dopo Cristo E' così Ok Allora Domenico Romeo Del 16 aprile Del 35 Del 1935 Del 1935 Stiamo facendo un esempio Sì Sì La traduttora Mi ha fatto vedere Favore Che è una serie di motivi e coincidenze Tutte positive Io mi ripeto La persona più fortunata del mio Allora Allora Accomodati Accomodati Allora prego Ok dice che lei da quando era piccolino ha avuto un'infanzia non molto facile una vita molto forte e ha appreso ha appreso con i grandi insegnamenti il segno di decale del 16 di aprile il segno è ariete ariete l'anno è 1935 è una persona impulsiva, diretta, sincera, dice le cose in faccia ci piace o non ci piace, queste sono preprime di l'altro questo ti ha portato però i nemichi lamentando il ronuncio perché non a tutti ci piace la sincerità dice che il suo peraltro gli ha portato un po' di nemici perché non a tutti piace il suo essere un po' diretto e quindi un po' di batti vecchi si, prima parla e poi pensa è istintivo, prima parla e poi pensa mi dicono io ok? a vero e un'altra persona lascivo così a vero una alla volta allora scusatemi un attimo chiedete cosa io voglio verificare con voi anche no? poi dall'altro è allora vuoi fare una domanda da Rita Quattrone? no volevo avere un'altra persona che vuole essere ah ok con delle caratteristiche generali prima tanto ce ne si erano forza Rita e segno cancro sono nata il 22 giugno del 1966 nome e cognome è Rita Rita Quattrone tu sei una persona che è in area sentimentale no però avrà traduzione che io amo ok una persona nell'area sentimentale è stritta allora nell'area sentimentale sei molto o non so nell'area sentimentale sei molto nell'area sentimentale lei è una persona abbastanza stretta o è bianco o è nero ok a livello sentimentale a livello sentimentale inclusive la frate è vero non c'è un'area nel momento però è una o d'altra maniera leggera dice che il denaro anche se non ce l'ha nel momento nel momento in cui non ce l'ha però se ne ha di bisogno in qualche modo le arriva è una persona intuitiva è una persona intuitiva è una persona che cambia però adesso si dica la cosa facilmente sai le che è contenta se moleste le che è molesta se contenta è una persona che cambia facilmente umore da che è sorvidente allegra passa facilmente anche a momenti di tristezza fino a lì che la vedo la vedo la vedo così la vede in questo momento si sto ok grazie quando mi ha visto la prima volta direzione il dono che il signore gli ha dato ha questa facilità nel dirigere nell'organizzare quando usiamo il termine comando non dice fai questo fai quello ma nel modo di organizzare ha questa facilità nella direzione 27 no? 27 ed è una persona che da quando era piccolo lui lo chiamavano per chiedere dei consigli per avere un indirizzo non più tanto quando è cresciuto proprio da quando ero piccolo era proprio aveva questo dono di essere già grande naturalmente grazie allora però secondo me la persona che dovrebbe il primo è il nostro camine è un poeta tu l'hai sentito tra l'altro lui ama molto le arti sì sì e credo non so se lo posso dire credo che tu eri pure destinato a diventare un religioso no? avevi detto sì di piccolo però mia mamma non lo ha voluto ma mi ha detto che è non si allora la tua data di nascita ancora no 10 1 1987 10 1 1987 Carmine laurenti è il 77 sì il regalo che mi ha dato a Carmine è una persona che la libertà è molto importante la persona che sta con Carmine dice che il suo dono è quello della libertà che le persone che stanno vicino a lei devono rispettare questo suo senso di libertà se no non vanno d'accordo deve avere questi suoi spazi personali questo è vero però questo si verifica quando quando ho dato un 100 possibilità io prima dò 100 possibilità una persona però lei piace stare anche a avere i suoi spazi sì sì e questo è il suo regalo che insomma 10 10 10 10 10 10 10 10 è una persona che manda però con l'amore senti fatti questo ehi per piacere mi puoi fare aiutare in questo è una persona di mando però con l'amore ok chiede le cose con molta con l'amore con l'amore con l'amore con l'amore con l'amore con un po' di diplomazia siamo in questo termine chiede il mare il mare ti piace il mare ti piace il mare io lavoro lavoro non c'è la comunicazione perché metà dell'intervento ti piace il mare che succede con il mare lavoro con il mare Io lavoro, faccio il marinare. Ah, ok. Ok, vedo male. Vedo male. Bravo. Ah, è bella. Casa. Casa vicino al mare. Casa vicino al mare, sì. Ok. Casa piccola. Casa piccola. Ancora vado più. Gli animali ti piacciono anche? Che hai in casa? Un animale piccolo? Vuoi avere un animale? Che succede? No, io amo gli animali, però non... Non l'hai, però ti piacciono. Sì, sì. Ok, va bene, lasciamolo così. Allora! Rossana, lo sono andato, un attimo. Io vorrei chiedere qualcosa che... Al microfono, così lo sento... Non so se è possibile. Non so se lei ha la possibilità di percepire qualche messaggio. Questa persona... Che è il tuo padre? Mio marito. Tuo marito? Un passo, molto. Lei dice qualcosa, che è subito, non so, ha qualche percezione di... Come si chiama? Domenico Smorto. Era nato a Corio di San Lorenzo. Il 20 dicembre 1949. Era una persona allegra, però si molestava con facilità. Domenico. Sì. Ok? Sì. Carattere forte. Sì. Lui... Sì. Ti faceva reclami. Sì. Ti diceva che devi fare questo, tu devi fare l'altro. Sì. Sembra che andava sempre incazzato, scusate la parola, scusate la parola, in verso pressione. Sì. Sempre incazzato, sempre arrabbiato. Perché diceva che tu non facevi, scusi, sempre, diciamo che tu non facevi così come deve essere. Sì, è vero. Lui, è vero, è vero. Tu che facevi? Sì, sì. Lui, ti sto vedendo a lui, quello che pensa a lui. Sì. Tu mi hai chiesto per lui e parlo con lui. Ah, ecco, sì, sì, sì. Tu non facevi così come deve essere, dice. Sì. Tu devi fare questo, tu devi fare quello, e tu le facevi, e diceva che no, che le facevi male. Sì. Era arrabbiato. Sì, 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 sì. Signora, io non posso cambiare il stato di animo. Non è la verità. Ok? Senta, qualche notizia del... Dove... No. No. Dico, senti, c'è qualche intuizione di... Casa. Che è successo con la casa? Dove abitava tu e lui? La casa. Che succede con la casa? C'è una cosa che ancora devi di... Aggiustare con la casa? Sì, sì, sì. Ci sono i problemi con la casa? Sì, sì, sì. Ma vedete che... Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Che succede con la casa? Che documenti... Sì. Deve aggiustare con la casa? Sì. Perché dice che no. è presente ad aggiustare questi documenti? Sì. Ok? Hai figli... Hai figli... Una figlia. Sì. E questa figlia è appiccata a te? Sì. Ok? Sì, sì, sì. E piange ancora? Sì, pure io. Sì, però dice di non piangere. Ah, sì? Dice che non piangere. Non devi piangerlo. Non capirlo. Dice sì, ho morto, però non mi devi piangere. No, non mi fai riposare. Fai. Ok? Non mi devi piangere. In la tua casa. Sì. Ok? Un quadro di lui. Sì, c'è... Sì, tanti. Sì, sì, ma... Però un quadro che devi mettere fiore bianca e una candela. Dice. Vuole stare bianca? Sì, è una candela. Che c'hai tempo che... Quanto tempo ha che ha morto? Quattro anni. E tu non hai andato a dove lui... Sempre va. Sempre vai. Però che vai piangendo tutto il tempo. Sì. Non vuole che piangi. Sì, si arrabbia. Dice, e ancora dopo di molto non fai così bene. Mi dice, ma sono signora, scusi. Sì. Non solo in questo momento. Lo vede, lo sente. Sì, io sto bene, dice. Lascia di piangere. Io sto bene. Devi preoccuparti tu per la tua salute. Tu, perché hai un problema di salute, mi dice. Che sta presentando? Un pochino, sì, c'è qualche problemino di salute. Qual è questo problema? Perché non mi ha vinto. Io, da quando lui è morto, ho avuto una forte depressione. No, però deve uscire. Dice che deve uscire di questa depressione. Poi, in seguito a questo, mi è venuta una neuropatia di origine vegetativa. Non so che vuole dire questo. È una infiammazione dei nervi periferici. Ok. Della gamba, dell'addome. Quindi ho sempre dei bruciori. E non c'è cura per questa... Perché dice che è di origine neurovegetativa. No, 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 è l'origine stressante. È l'origine che piace sempre, dice lui. È l'origine che tu sempre e sempre fai quello che ti dice in testa e non fai caso. Dice, l'origine tuo è che tu devi rilassarti, lasciare di piangere e preoccuparti per la tua salute. Ok? Dice. Ti riprova in questo aspetto, perché dice, per favore, io sto bene, lasciami riposare. C'è il quadro. Io non mi sono andato. Non sono andato. È vicino. Sì, però è vicino perché tu non mi fai riposare, dice. Io devo riposare. Già quello che io dovevo fare qua sul planeta Terra l'ho fatto. Già io voglio riposare. E procura tu la tua salute e mi parla anche di tua figlia che piange. Dici, calmala, sta studiando? Sì, ha finito quasi. Sta facendo un master di specializzazione, perché lei è psicologa, ma sta facendo un master a fine di poter aprire uno studio. E lo aprirà, dice che lo aprirà, però devi concentrarsi nelle sue studie. Ok. Non piangere, grazie. Allora, per accontentare tutta la persona, Santina Milardi, due persone di qua, poi c'era Francesco Cotto. Allora, Santina Milardi. Santa Maria Milardi. Santa Maria Milardi, nata, le gambe del Doventino. Eh, ora che ha scalato. Eh, scusate. Ma la pratica si scusa. Allora, segno? Dancro. Dancro, dannato di nascita. Dano di nascita. 22 luglio. 22 luglio del... Nel 66. 22 luglio del 66. È una persona idealista. È una persona muy creativa. Creativa e idealista. e che succede con il cuore? tacca, tacca, tacca tacca, tacca, tacca devi controllare ok? questo è che cambia ok? e anche mi dicono l'alimentazione perché la digestione ti viene come di ripetere l'alimento ok? come di voglia e anche voglia di voglia di ripetere lì ok, adesso Francesco Lomoteta segno? Capricorno data di nascita 5172 lui è una persona responsabile lui quando dice che deve fare una cosa da fare ok? è una persona fraternal amicabile si può aiutare alla persona del lato che posso dire a quello che si avvicina lo aiuta ok? anno? 72 e inclusive c'è questo don che i persone si avvicinano per un consiglio e lui deve di consigliare a queste persone ok? così è? allora Clara con bello da questa parte poi lascia il mio quarto per bene se no sì giusto dai 25 giugno 1949 anche io posso questo don e il nome e il nome e il nome Chiara, Clara con bello con bello il cognome anno anno 1949 4 persone responsabili e Clara anche quando dice devo fare questo lo fa Clara una tristezza una tristezza interna perché? no domando io non c'è un televisore una tristezza interna un dolore interno veramente che qua siamo in pubblico ci sono cose che non che non si può veramente parlare Clara affinché non ti posso dire di più prima ok? ok? allora io non puoi tu devi fare una domanda perché tu insomma questa è una disciplina che ti ha sempre intriato se tu non lo so una domanda o qualcosa per verificare che tu insomma le disciplina la 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 parola come la sensazione in questo in questo momento ecco la mi ti roppono però se no non ci non ci mi confiaccio perché tanto io no io come mi fa piacere ah ok se ti vuoi girare la tua telecamera perché dai le spalle alla telecamera non possiamo scusate no 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 ti vuoi far incontrare tranquillamente da qua prego io voglio dirti qualcosa io ti do a te un messaggio oh buonissimo ecco sei avverto adesso che sei bravo in tutto quello che stai percependo su questi amici ma io ho un messaggio per te e ho una liberazione dietro così che mi attraversa ok energia è come da lì un po' da lì è come un messaggio che mi viene da qualcuno a cui tu vieni perfetto io non so se ancora c'è questa persona oppure non è qui la noi mi dice tu sei un po' sprecato sprecato cioè la tua personalità trasferita in Calabria ok va bene ma loro ma questa sensazione che io sto avendo è che non ti devi fermare soltanto qui è così è come un rapporto cosmico che riguarda il mondo della Calabria con l'altro da cui viene questa sensazione forte forte è bene è bene ma stai percependo tu un attimo rilassasi alzati e oggi ti amano molto ti stanno accanto e ti dicono di continuare a studiare perché tu avrai belle soddisfazioni un bacio quello è il messaggio che mi hai dato io lo sento così io ho lasciato un paese Venezuela dove io sono diciamo sindaco io manejo un'urbanizzazione con 4.000 e 5.000 persone e io ho lasciato di fare attività per il mio popolo Venezuela e per un applauso io vado a Venezuela e torno e studiare la mia passione 76 diploma io sono capitano sono DJ astrologia numerologia mi piace studiare e ti dico che voglio studiare io ho studiato canto anche e voglio seguire studiando senti un attimo io volevo chiedere a Luca che io quando l'ho conosciuto un applauso a Pina ma lo sapete perché è sedente senti io guarda io voglio fare un esperimento ti propongo questo davanti a tutti allora noi qua siamo nella sede storica delle Muse dove sono nate 16 anni fa 17 anni fa eccetera tu sei entrato qui hai percepito delle vibrazioni se io ti chiedessi qua c'è molta gente che sa della storia delle Muse eccetera io ti chiedo questo volendo riassurere queste Muse le vibrazioni che tu hai no? e qui siamo perché praticamente questa casa per le Muse l'ha data a me mia madre che non c'è più te l'avevo detto ok? qual è? mi sono detto più di uno che sa la storia delle Muse ma poi di vari accadimenti positivi negativi eccetera io lo voglio fare davanti tanto abbiamo verificato per ognuno che ci sono delle storie vere però che cosa pensi che cosa ti ti viene da dire ossia sopra l'energia che c'è qua l'istituzione si è una energia hai visto nel passato qualcosa di strano che è accaduto qua o no? di strano in questione della salute? no, dell'associazione mira, ora lo che te puedo dire è lo che io percibo una energia molto forte, positiva potrebbero essere avuto problemi nel passato i problemi che sono del passato e del passato già hai che stare nel presente per proietare il futuro ok? i problemi che si potrebbero presentare non se nemmeno se aveva sociali o aveva distinta maniera di pensare alcuni conflitti che si presentavano per distinta traduci per favore forma di pensare guardate, io... scusate scusate che può essere che nel passato ci sia stato qualche problema a livello conflittuale di pensieri diversi esatto io dove pude generare problemi tra problemi in immagini rare dove non lo aveva mi parlano dei problemi dove non lo aveva che lo crearono altre gente non sono problemi reali ti explico e il problema si presenta però non era un problema realmente lo occasionarono con la malizia eeeh scusate io so quello che voglio guardate no ditemi prego 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 traduci per favore sta dicendo che in passato c'erano dei problemi ma non erano problemi erano creati da cattiveri e malizie e quindi era tutta una finzione una malizia era una malizia una malizia era una malizia per istruire la istituzione per bloccare questa istituzione Avrete capito? Non so la storia Sai la storia perché non l'abbiamo parlato Però era solamente per capire la casistica C'era Mimma Dria che voleva dare la sua Ma che non sei assurato? Qualche domanda da puoi fare? E allora Mimma Dria Sì, la devi dire, purtroppo Il regno zodiacale 11, 12, 47 Una persona intelligente però despistata Ok? Una persona intelligente ma che storica è distratta E da che cosa? Se le olvidano le cose Se le dimentica delle cose, le chiavi Non è di ora, non è di ora Osea, questo è... E con tutta l'educazione, no? Non è perché ora è una persona... Dice che anche quando era piccola Osea, da essa Una persona però intelligente, oviste? Che ma... 11 che? La data signora? 11, 12, 46 Una persona allegra però si molesta con facilità Una persona allegra Però si molesta con facilità Una parola maldita o maldita Anche con una... Con la stessa semplicità come allegra Ma anche con una parola Fatta male, detta male Quello che si molesta Si... Si arrabbia Si arrabbia Si arrabbiosisce Di che anno? D'anno? 46 46 E' una persona però... E' che il regalo che Dio le da E' amorosa E' una persona amorosa Sare? Protettora Che rida In questo aspetto Per il regenzio Una persona traduce Una persona amorosa Una persona che... Amorosa che dà molto affetto Protettora Si Diciamo che qua non è tutto La signora dice che non è completamente La sua fotografia Che è molto calma E che non si molesta con facilità No, oddio Sono... Sono calda Voglio dire non è che mi abbia facilitamente Ce ne vuole per me questo è lo che mi dicono e lo che io le dico che è relazionato inclusive con i viaggi relazionato inclusive con la parte spirituale e relazionato inclusive secondo la caratteristica o il decanato io percebo, io dico quello che percepisce, lui dice, per le sue caratteristiche per lo stare al suragio e volevi chiedere qualcosa tu sei scettica però così io credo mai, guarda io credo l'energia queste cose anche uno legge, studi e c'era però io non ci ho mai creduto a queste previsioni io neanche conosco, credo qui ai segni, io conosco uno oggi questi tempi, non chiedo come ti chiami di che segno sei? insomma che domande sono, bravo non mi interessano scusami, tu che cosa, visto che lei non ci crede per farla ricredere, scusate cosa le potresti dire? si chiama Rosalia Surace si chiama Rosalia Surace cappello da leopardo vediamo come possiamo tacciarla però quale è la data di me? la data di me ce la vuoi dire Rosalia devo di studiare 4-4-4-8 una persona responsabile una persona madura una persona madura desde pequeña una persona centrata non fu una persona così diciamo che era bocchinchera o questo dice che da piccola lei comunque non era una bambina poi tutti chiamavano solo giocare ma era proprio una grande una grande signora da piccola centrata, una persona centrata e una persona anche responsabile e una persona responsabile di che anno? 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 responsabile 4-4-4-4-8 idealista idealista e quindi lo che passa è che blocchia l'energia ella è che non interessa non è facile tu andare al dottore e ci dici dottore mi sento male che c'è? tu sei il dottore questo è che lo riesco a cederlo blocchia l'energia non voglio sapere io non credo in chi credi? scusa per tutto il rispetto perché tutti credemmo in qualcosa in chi crede? io guarda io credo in Dio perché sono molto religiosa ah è questo ma sempre religiosa però non fanatica perché non sono di quelle che vanno a messa nel momento vado vado quando ho tempo ci vado volentieri prego moltissimo per tutti per il mondo non credo per me però non credo a queste previsioni credo nell'energia dell'uomo l'uomo è energia siamo fatti di molecoli di atom eccetera abbiamo passato l'illuminismo quindi ragioniamo con la testa non più siamo nel medico le neurone inclusive l'energia che hai nel ferere però ma è valido non lo potete voglio dire che uno ci ammetti io queste cose non crede negli angeli no credo negli angeli ma che uno parla con gli angeli certe volte e allora scusa la virgine Maria quando l'angelo Gabriele compare non credi allora sì credo a quello però non se tutti abbiamo questo potere o queste doti come adesso in questo tempo che stiamo stavendo ogni tanto compare qualcuno che dice bene questo nel far quello non tanti io allora io questo dico è chiaro è chiaro il discorso che noi stasera a parte l'esperimento che poi diventa un discorso interattivo siamo partiti dalla poesia dalla comunicazione dalla scrittura perché anche Carmine scrive quasi per esorcizzare un po' diciamo quello che sono i problemi del suo tempo da giovane così come gli artisti comunicano lui quando ha sentito l'associazione di artisti ha detto vengo subito perché io amo l'arte io sento più di uno stasera che ha fatto delle domande anche da artista però una cosa è certa che esistono dei personaggi degli uomini delle donne Pina che l'ha dimostrato prima aspetta a dire no che diventano dei conduttori di una comunicazione diciamo che viene mediata sempre da altri esseri da altri esseri umani un altro esperimento ti vorrei sottoporre guardando il pubblico che c'è qua guardando le facce che ci sono qua a chi gli manderesti un messaggio di un cambiamento positivo siamo sempre in positivo del nuovo anno guardando il pubblico che c'è qua io dico a livello generale sì perché tutte tutte siamo figlie di Dio e a tutti io do un messaggio particolare di effettivamente pregare per il per la paz non solo d'Italia per la paz mondiale ok per l'amore per la comprensione per rispettare carineologia è valido quello che pensa non tutti devono pensare come io non tutti devono credere come io non tutti devono portare scappe rosse per questo c'è la varietà se no non c'era il tribunale non c'era neanche l'avvocato di giurisprudenza e i capelli tutti sono stessi allora in la varietà c'è il gusto allora si deve rispettare si deve crescere a livelli espirituali è importante la spiritualità quale sia che sia il budismo la metafisica la chiesa cattolica l'evangelica però sempre guardare in cielo e chiedere per nostri vecinos nostro vecino di aprire a noi può essere un messaggio a livello generale grazie un attimino prima del messaggio c'è un signore un giovane che viene che sta venendo da poco con le chiede dice quando è data di nascita allora santo maria criserà 39,70 andiamo a scuola insieme alle elementari santo maria criserà 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 39,70 è una persona che tiene che cuidare la parte economica perché il negozio che lo hace con il dinero è un negozio che lo pierde il dinero prestato è il dinero acabato e è a livello economico a insegnare il valore del dinero lei viene a livello per insegnare il si fiero me llega l'energia di che è che deve essere dentro del denaro ok dinero prestato dinero perdito negozio il denaro che lui comunque ha prestato si ha prestato lo ha perduto negozio negozio che ha fatto ha fatto un negozio si presenta con problema con il dinero però l'energia è del dinero che tiene che cuidare ok la la il messaggio che le dan è in relazione al dinero a valorare il dinero il messaggio che comunque lui attiva su di lei sul denaro sul passato di 30 e 70 e l'altra persona in quello subitiva lei spesso sogna qualcosa che poi si avvera allora poi un attimino un componente Diego Gerò Giuseppe Cogliandro Giuseppe Cogliandro la nascita 51269 51269 una persona che la libertà è importante ok è l'espazio di fare si lo che le passa l'amico Carmelo il suo spazio di venire la libertà è molto importante per lui ok la libertà è anche per lei molto importante come l'amico Carmelo gli spazi anche per lei sono molto importanti non è levata la moglie giustamente a limitare gli spazi qui c'è la moglie allora devi rispettare è così che ti dice che sono che mi dice di che anni 1969 619 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 18 19 18 19 19 20 20 c'è qualcun altro che vuole chiedere perché non sa, io capisco il tuo patos però volevo chiedere solo questo se il messaggio di mio marito è positivo positivo solo questo, cioè se vuol dire che è vicino a me sì, è positivo e solo che vuole riposare e da fastidio il pianto perché non descansa è positivo è positivo e con risa ossia sta contento grazie dai nome con il nome e dalla rinascita sì dalla rinascita, la nome con il nome sì che stiamo per favore Nino Nino Nita Antonino Nino mi fa le donne Antonino Nino ok data rinascita 3, 12, 42 dopo Cristo anche una persona familiare che la famiglia è molto importante è una persona idealista e creativa e mi hai detto 3 12, 42 ha la rete persona legge però che tenete controllati e non molestarsi segno il giornale no già me mi hanno agitato mi viene così tante volte in radio che facciamo questo lavoro e mi hanno guardato immediatamente mi dice solo che gli ha perdito la concentrazione mi ripete la data di Nassini 3, 12, 42 anch'io sono stato scritto dopo sono stato scritto il 4 mi importa cioè sono nato il 4 mi vorrei sono nato il 4 e mi hanno iscritto il 3 per guadagnare una razione di pane che eravamo nella guerra così mi diceva la mia madre è il 4 bisogna considerare il 4 è il 4 è il mese 12 12 42 una persona familiare una persona che la famiglia è importante una persona responsabile una persona che lo che dice tiene che hacerlo e è una persona allegra ma di controllare a volte di non molestarsi con certe parole o cose che non vale ok? il signor Mino deve controllare anche il stress mi dice che sei stressato mi dice che sei stressato mino voi te lo dico io perché sei stressato allora scusate l'amore non parla male l'amore allora mi chiedo scusa però dovete stare zitti è arrivata una persona vieni qua silenzio però perché voi la conoscete e poi si capisce nome, cognome e data rinascita Rosaria Livoti 7, 8, 68 quindi Rosaria Livoti 7, 8, 68 Rosaria Livoti perché non sono comuni per me ok? 7, 8 68 60 tuo padre è un po' di carattere forte c'è un conflitto paterno che succede con il padre? il mio padre non è però non è ora in vita però quando è in vita era di carattere forte e vieni tu a sanare la situazione con tuo papà ti spiego anche tuo padre non è in vita tu devi perdonarlo perché fu una persona di carattere stritto ok? di insegnanza e tu non una tante volte hai pianto ok? per questa situazione o sea di carattere e mi ripetere mi ripetere mi ripetere la la di ma si perché adesso ce l'è quando mi arrivano questi messaggi boom bene 7, 8 persona 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 intuitiva persona che la parte spirituale è molto importante per me sai quando io vedo che non sono io solo intuitivo qua ci sono tante parecchie persone anche intuitiva e della mamma di questa persona tua mamma già che domande per tua mamma non so non la vedo vicina c'è qualcosa che non 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 la vedo vicina ma che succede con mamma pregunto domanda si domanda si domanda che passa è qua non è qua c'è più non c'è più non la vedo vicina come è morta anche lei non è più però fiat una cosa non è vicina fisicamente però però si è spiritualmente ok tu non una tante volte tu senti una presenza si o no si si sai chi è tua mamma ok però è protezione protezione tu senti credi vedere o sogni però tua mamma è presente e dice che è con te ti sta proteggendo ti sta guidando ti sta orientando tante volte ti arrivano messaggi tu vuoi fare una cosa e non lo fai non lo fai perché cambi di idea e tu stesso ti paresti strano perché ho cambiato di idea se io dovevo fare questo si o no corretto sono i messaggi che tua mamma mentalmente ti dice ti arrivano messaggi anche delle persone che è tua mamma che ti dice di non fare questo o lo fare perché che succede tante volte tu vuoi uscire e poi ti fermi dice no non vuole uscire ti succede questo è perché se tu usci o sales in esse momento ti può succedere qualcosa allora è tua mamma che ancora ti protegge ok con amore con carino con ternura tu hai anche una connessione a livello espirituale tu priega abbastanza si o no ok se hai una connessione ora ti sto guardando l'energia sai ancora di più vediamo la salute un po' bene sei intuitiva e tieni questa facoltà le tue preghiere non è che le altre non vanno però le tue preghiere si ascoltano presto sei una persona molto caricativa di corazon molto e una persona molto linda non ti parlo de lo fisico sino di tu sentimento sensible emotiva cariñosa così così ti describo io e con intuizione reza molto al Padre e il Espirito Santo che te ilumine in tu decisione ok bene excelente te felicito di verrà noi facciamo un applauso alla nostra professione che sapere tra me allora mi racconta fortemente mi evocherò prego io visto che c'è tanta arte qui in questa sala mi piacerebbe anche con l'anno nuovo avere ospite sia Antonella e sia Carmelo verso la mia sede dove io collaboro la gestione 95 per poter in diretto ovviamente perdere anche il pub loro lo sanno perché Radio Studio 95 è la radio di merito tv canale 817 perché merito tv diciamo è la metafiraglia poi c'è telefono marina è la radio la smetto da domenica però esiste anche internet insomma lo streaming però il fatto che con la ionica insomma questi progetti possono arrivare anche dall'altra parte in modo tale che questi esempi diventano non soltanto la piccola lucina e soprattutto sviluppare quella che è la poesia nostra con le nostre tradizioni il dialetto che ultimamente si sta abbandonando quindi mi farebbe piacere con l'anno nuovo avervi qui in studio e a tal proposito volevo dire che qualcuno che si sta lavorando sulle frequenze per fine anno si vedrà finalmente bene il segnale quindi saremo andremo tutti a farci intervistare da lei come partirà pure la san reale la trasmissione sulle nuove storiche stiamo aspettando appunto che il segnale si possa vedere perfetto in modo da poter vedere la televisione concludiamo con una canzone di Luigi Barbellio che naturalmente è a me l'eleanza che non so vi siete messi d'accordo vi potete mettere d'accordo di cantare di quante le volete grazie per la papà questa è una poesia dedicata a ti a papà che ora ti trovi da un mondo una verità questo è un pensiero che mi faccia dispiacere ma non ti posso fare niente caro papà e te levo a dire che la speranza che dopo c'ero queste parole ti possono arrivare che tu faciste sempre un bene e non ti potrei mai ringraziare ora cerco come faccio questa bella poesia che pensai tutta la notte e dopo tasca mia papà chi sta stustato i malumori te prego bene mi do il sogno e consola una cosa la mamma sta cerbona tu li ha non ti preoccupare che i figli siamo tutto compatti e non potete abbandonare papà la tua assenza la mamma è fatale e passa un pochì di tempo che mamma si può perdeggiare perché questo sta a creare una complicazione che cose della famiglia stanno procedendo un po' che scrive per te sicura è uno che ti posa troppo bene se ha bisogno di una cosa vi rende il sogno per me bene ora che ti scrive mi sento più libero e senza preoccupazione cerco per me piglio il sogno che la speranza non mi sono così bene e spero del futuro per me ti posso riempirizzare ma ti voglio tutto bene che non ti potete dimostrare che non ti potete sentire nel cielo e nel cielo per me per me per me per me O Dio, 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 Dio. O Dio, 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 Dio. O Dio, 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 Dio. O Dio, 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 Dio. O Dio, 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 Grazie a tutti.